Presidente Treglia, siamo qui questa sera per la quinta edizione del Contest Junior Chef, un'iniziativa che fa sposare l'enogastronomia al sociale come nello spirito del Rotary che lei presiede. Assolutamente sì, questa sera siamo qui nell'istituto alberghiero per la quinta edizione del Junior Master Chef e per mettere in risalto i talenti di questi giovani ragazzi, ma siamo qui anche per ricordare la professoressa Bottari preside cinque anni fa sull'avvio del primo Junior Contest Chef e anche per un altro motivo, per dare adito a una raccolta fondi per l'Aporio affinché ci sia la vera e propria eradicazione nei paesi dove ancora purtroppo è presente.